Buongiorno, oggi siamo in Val di Ciezzo e precisamente siamo in Vallo A. Siamo diretti verso Scaredi, la giornata non sembra delle migliori, speriamo di non prendere acqua anche questo giro, comunque abbiamo lasciato l'auto al fondo dei gatti, la seguiamo, dobbiamo andare invece con la cappelletta là in fondo e poi salire, circa due ore cammino. Messaggio per Francesca, sta preparando, ok, andiamo. Grazie. Grazie a tutti. E infatti quello che temevamo, piove. Grazie a tutti. 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 dietro di noi il cimone e la laurasca, noi eravamo là, si vede ancora il crocifisso, si vede qui il crocifisso, eravamo là sopra, quella è Scaredi, bella passeggiata, abbiamo preso l'acqua all'andata, ma pioggerellina alla fine non è che abbia diluviato, però un po' l'acqua l'abbiamo persa anche oggi, abbiamo fatto anche al ritorno l'esperimento culinario, ottimo, benissimo, da rifare, ok, ma comunque l'esperimento culinario ci andava benissimo perché le temperature più sono scese un pochettino, andavamo ancora, quella di istantanea, questa volta era la minestra ortogana e ci è stato proprio bene visto il fresco, alla prossima, da Max a Franci, salut!